Chiara Ferragni è stata la protagonista principale di Che Tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 9. Durante l'intervista, ha parlato della difficile fase che sta attraversando insieme al marito Fedez, affrontando critiche e polemiche sui social media. L'influencer e imprenditrice digitale si è descritta come molto agitata, sottolineando che la sua storia è minima rispetto alle tragedie globali, ma è comunque importante contestualizzare quanto le è accaduto. Ha ammesso di sentirsi vulnerabile di fronte all'odio online, nonostante l'apparente invincibilità quando le cose vanno bene. Riguardo alla separazione di Fedez, ha commentato che molti pensano che sia una strategia, ma molti dei suoi seguaci hanno compreso che non è così. Ha parlato della difficile bilancia tra autenticità e piacere a tutti sui social, sottolineando che non esiste una formula magica. Chiara e Fedez hanno sacrificato parte della loro privacy per raccontare la loro storia personale al pubblico. Sull'attuale stato del loro rapporto, ha rivelato che stanno affrontando una crisi, ma come adulti sanno che i rapporti non si chiudono da un giorno all'altro. Le priorità per entrambi sono i figli. Ha ringraziato per la visione, invitando a iscriversi al canale e attivare le notifiche, sottolineando l'importanza di rimanere sempre aggiornati.